Festa di Santa Lucia, Paletti, Via Piave, l'amministrazione si ravvede. Anche se di piccola portata, sempre di miracolo si tratta, la nostra Santa Lucia è riuscita a far aprire gli occhi a qualcuno, probabilmente non Siracusano che mai avrebbe immaginato che la collocazione di una serie di paletti lungo la Via Piave avesse potuto impedire il regolare passaggio della precessione per la festività del 13 dicembre. Da ieri sono in corso lavori per eliminare gli ingombranti paletti, sebbene gli stessi fossero stati posizionati qualche mese addietro. Meglio tardi che mai. Peccato che questo miracolo abbia comportato una spesuccia per la collettività, circa 8-9 mila euro. Circa due anni fa la stessa sorte toccò ad alcuni paletti impredentemente fissati nel piazzale antistante il sagrato della Basilica di Santa Lucia alla Borgata. Ma allora avido vizio, afferma Pierluigi Chimir dell'Udc di Siracusa.